Quale deve essere la migliore frequenza possibile da utilizzare? Ecco, questi meccanismi sono meccanismi non semplicissimi, per cui ci vuole anche una certa preparazione. La preparazione può essere fatta in variati modi, ci sono preparazioni di natura tecnica, quindi io devo preparare la mia stazione per riuscire ad avere, per esempio, antenne più facilmente puntabili o di una certa dimensione verso il particolare paese verso il quale voglio effettuare il contest. Piuttosto che mi devo preparare io, perché se devo stare 24 ore a un microfono, devo essere pronto, devo sapere come dosare le mie energie, devo sapere come dosare il mio sonno, perché non è detto che io riesca a stare sveglio 24 ore, se il contest è di 48 ore, difficilmente riuscirò a stare 48 ore in interrotto. Se ci riesco, devo dormire prima, mi devo preparare, la mia voce potrà calare durante l'evento e quindi devo capire come dosarla, devo non essere esagitato all'inizio, ma riuscire a mantenere una certa concentrazione. Devo, per esempio, sapere che se all'inizio del contest ci sono tantissime stazioni, perché siamo tutti freschi e siamo tutti lì, dopo 24 piuttosto che 48 ore magari ce ne sono molte meno e qui dipende molto da com'è la propagazione e da com'è il contest. E magari c'è un primo momento o delle prime ore estremamente divertenti e poi delle ore che sono un pochino più noiose. E allora, nelle ore più noiose, io devo avere una resistenza maggiore perché mi sto divertendo meno. Tutti i momenti in cui inizio a pensare che lascerei il contest invece devo proseguire, tutti i momenti in cui vedo il letto come un risultato fondamentale devo pensare di andare avanti. Ma vado avanti per dire alcuni altri elementi del contest, poi questi elementi che sto dicendo magari li riprendiamo. I contest quindi possono per esempio vedere, dicevo, una nazione oppure anche delle aree di una nazione. Può essere interessante andare a collegare maggiormente un'area piuttosto che un'altra. E qui tutto dipende da com'è realizzato il punteggio. Come tutte le gare, quando si fa una gara si va a cercare di massimizzare un punteggio. Per massimizzare un punteggio, per massimizzare il punteggio, quello che si va a fare è definire qual è lo strumento di punteggio. Cioè come è fatto questo punteggio. Il punteggio normalmente è fatto dal prodotto di due elementi. Il primo è il numero dei collegamenti. Il secondo sono quelli che si chiamano moltiplicatori. Allora, il numero dei collegamenti può essere sommato banalmente. Io faccio un collegamento con una stazione su una certa frequenza in un certo modo. Una certa frequenza, per esempio in 20 metri piuttosto che in 40 metri, in un certo modo in SSB piuttosto che in CW, piuttosto che in digitale, dipende dai tipi di contest. Tipicamente ho un certo punteggio per ogni stazione collegata. Il che può dipendere o non, qui dipende dal tipo di contest, può dipendere o non da dov'è l'altra stazione rispetto a me. Una stazione nel mio stesso paese può essere nella mia stessa nazione, può essere diversa come punteggio da una stazione nel mio stesso continente, può essere diverso da una nazione in un altro continente. Per esempio, ci può essere un punto se è nella mia stessa nazione, ci può essere, non so, tre punti, due punti se è nel mio stesso continente, ci possono essere tre, cinque punti se è in un altro continente. Perché la presunzione è che più è lontano e più può essere difficile, può essere, non deve essere, più può essere difficile. Come ben sapete, tutto dipende dalla propagazione. Ci sono momenti in cui è difficile fare 100 chilometri, è facile farne 20.000 e quindi tutto dipende dalla frequenza, dalla propagazione, da tanti elementi. Però ecco la presunzione è che più è lontano, più sia difficile. Piuttosto che se stiamo facendo un contest organizzato da un determinato paese, quel paese, anche se magari è un contest di natura complessiva, può essere avvantaggiato o vuole essere avvantaggiato. Quindi magari il paese organizzante che ha fatto l'organizzazione ha stazioni che valgono 10 punti, che valgono molto di più rispetto agli altri. Questi possono essere tanti piccoli criteri che vengono messi. Poi ci sono, sempre sulla valutazione dei collegamenti, ci possono essere delle differenze per bande. Se una banda è più difficile, i 160 metri sono sicuramente più difficili dei 20 metri. Quindi un collegamento fatto in 160 metri può valere di più rispetto a un collegamento fatto in 20 metri. Ogni contest ha le sue regole per andare a definire quanti punti vengono dati per ogni collegamento, da 1 a 10, eccetera, eccetera. Poi ci sono i moltiplicatori. I moltiplicatori sono veramente l'elemento chiave su cui si differenziano i vari contest. I moltiplicatori possono essere cose del tutto diverse. Esempi. Le nazioni del mondo. Uno dice che è un moltiplicatore ogni singola nazione del mondo. Poi nel concetto radiantistico siamo andati un po' oltre. Le nazioni sono più dei paesi effettivi perché ci sono delle zone, degli atolli in mezzo al nulla che sono interessanti da collegare, però non sono considerate una nazione. Magari sono anche disabitati. Però proprio per la difficoltà tecnica di arrivare vengono considerate alla stregua di una nazione. Vengono considerate country. E questi sono più di 300, 340. Insomma, abbiamo molte di queste nazioni da andare a fare. E quindi un primo criterio può essere fai tutte le nazioni. Allora, il mio punteggio cos'è? Il mio punteggio è quanti collegamenti ho fatto per quante nazioni ho fatto. E inizia a essere interessante perché se abbiamo questo prodotto, quanti paesi ho fatto, quanti nazioni ho fatto rispetto a quanti collegamenti, io devo fare una scelta. E la scelta deve essere, ma è meglio fare tanti paesi o è meglio fare tanti collegamenti? Quando faccio collegamenti, di solito mi metto a chiamare, io sto chiamando molto, molto insistentemente, dall'altra parte mi risponderanno, se siamo in un contesto ampiamente popolato. Sto facendo l'azione cosiddetta di run, io sto cercando, sto facendo un running, sto cercando indifferentemente tutto, quindi tutti vanno bene. Tutti questi che mi stanno rispondendo mi danno collegamenti, quindi mi portano sull'ammontare dei miei collegamenti, ma normalmente non saranno stazioni che vengono da tutte le parti del mondo. Perché se io sono una stazione rara, o comunque abbastanza rara, non vengo a cercare Gianluca Mazzini che sta chiamando, sono io che sto chiamando, e quindi mi aspetto che sia Gianluca Mazzini che mi viene a cercare da un'altra parte. Ecco che allora c'è da un lato un'attività di fare tanti collegamenti, ma appena c'è la possibilità, c'è il momento fondamentale di riuscire ad andare a fare quel moltiplicatore che ti manca. E il moltiplicatore normalmente non viene proprio a cercare te, sei tu che devi cercare il moltiplicatore. E quindi insomma devi bilanciare queste due attività, running e il search, l'andare a cercare, andare a cercare il particolare moltiplicatore. I contest, diciamo, interessanti per differenza rispetto agli altri, non è tanto la definizione come moltiplicatore di province geografiche piuttosto che di nazioni, piuttosto che di aree geografiche, ma è legato al nominativo. Si chiama WPX e in questo caso quello che conta è il nominativo radiantistico, io sono i K4, le ZH, quello che conta è il nominativo fino all'ultimo numero, quindi i K4 in questo caso. Se ci fosse un i K5 è diverso da un i K4. Se ci fosse, per esempio, un israeliano, come in questo momento, il contest che dicevo prima, 4X4 qualcosa, quello che si va a vedere, il moltiplicatore è 4X4, che sarà diverso da 4X5. E ancora una volta si può dire che questo particolare moltiplicatore è da ricercare per ogni bando piuttosto che unico per tutte le bande. Capite che il numero di combinazioni è infinito, è anche la possibilità di fare contest diversi, ma anche la strategia con cui si fanno i contest è completamente diversa. Io non so se riesco a trasmettere la passione per questo mondo e per questa parte di contest. Io ho iniziato a fare contest nel 92, qualcosa di simile, poi ho smesso per un po', poi ho ripreso, però diciamo, è un qualcosa che non è in realtà una competizione con gli altri, è soprattutto, fatemi dire, una competizione tecnica con se stessi. Il grande risultato che si ha quando si fanno i contest non è tanto, almeno a mio parere, se si vince rispetto a qualcun altro, ma se si migliora rispetto a quello che si aveva fatto, se la tua stazione va meglio rispetto all'ultima volta, se tu sei riuscito a fare qualcosa di meglio rispetto alla volta prima, se dalla volta prima hai capito come andava la propagazione e sei riuscito a farla andare ancora meglio. Questi sono tutti esempi di come si migliora. Poi, chiaro che se sei un po' meglio degli altri e stai facendo una gara, sei anche più felice, questo è un dettaglio, ma il primo risultato è guardare se stessi e com'è andata, proprio perché c'è nel nostro hobby quel tentativo di miglioramento tecnico continuo che ci deve in qualche modo caratterizzare. Ecco che quindi, QSO, che sarebbero i famosi collegamenti, per moltiplicatori, è un po' il mantra e tutte le volte, mentre stai facendo un contest, quando inizi a non poterne più di fare una cosa, inizi a fare l'altra. Poi alcuni fanno studi più scientifici su qual è il momento giusto per cambiare, altri si affidano più al proprio istinto e quindi continuano a cambiare fra cercare moltiplicatori piuttosto che chiamare, e qui dipende da tanti altri parametri. Uno dei parametri è la potenza che hai. Se tu stai facendo una gara al massimo della potenza italiana, 500 Watt, è diverso che se la stai facendo a 100 Watt, perché c'è 5 volte di differenza. 5 volte di differenza, poi dipende da che ne hai, tutto quello che volete, cambia, cambia parecchio, perché cambia da ti sentono un pochino a ti sentono di più, ma soprattutto cambia perché quelli forti, che magari hanno potenze ben più alte da altri paesi, ti schiacciano pian pianino con le loro spuri e le loro armoniche, l'interferenza che generano e quindi se tu sei un segnalino piccolo fai fatica a chiamare, puoi solo rispondere. E quindi anche la potenza è un gioco importante perché se hai poca potenza fino ad arrivare al QRP, 10 Watt, 5 Watt, potenze molto basse, dove in condizione di assoluto silenzio riusciresti magari a fare il collegamento, in condizione di contest, con rumori, ma soprattutto con fortissime interferenze, diventa molto complicato. Allora, un QRP può fondamentalmente soltanto andare a cercare di rispondere, quindi sarà più portato a fare moltiplicatori, e ovviamente ogni moltiplicatore magari è anche un collegamento. Più hai potenza alta, e più ti puoi permettere di chiamare, sei quello che viene chiamato The Big Gun, la grande pistola, colui che sta in qualche modo polarizzando un'intera o un'intera area. Considerati che ci sono quelli che proprio per limitare le interferenze magari stanno parlando con gli Stati Uniti, hanno delle antenne puntate sugli Stati Uniti, ma intanto usano altre antenne puntate da altre parti semplicemente per tenere lontani gli interferenti e far capire che loro sono presenti lì, in modo da non essere disturbati. Quindi, con una funzione diciamo, tattica, non con una funzione di contest, perché non ci interessa quell'altra area, ci interessa che gli altri non ci disturbino. Quindi, da una parte magari c'è in corso il collegamento, dall'altra c'è la protezione del collegamento. Non vado su altre tecniche, ce ne sono tantissime, voi dovete pensare che chi fa contest lo vede proprio come un hobby importante, ma diventa una strategia su cui ci si allena in continuazione. E qui venga un altro tema, la categoria, e poi arriviamo all'UWRTC, ma perché questi sono tutti gli elementi di base. La categoria, che cosa significa? Beh, io posso fare il contest come operatore singolo, sono qui da solo, ho la mia stazione, ho le mie antenne, mi organizzo e sto su una banda sola, se il contest prevede che io possa stare su una banda sola, piuttosto che su tutte le bande che il contest prevede, definisco una mia strategia di gara e l'applico, piuttosto che andare su una stazione dove ci sono più operatori. In tempo di coronavirus è molto complicato, in questo momento i contest multioperatori, che sono i contest, fatemi dire, più divertenti, non si possono fare, si fanno con estrema difficoltà facendo dei multioperatori da remoto, che insomma, non è quel livello di socializzazione che normalmente faresti, però l'idea del multioperatore qual è? È di essere contemporaneamente, rispetto ad antenne, trasmettitori, amplificatori, tutto quello che serve nello stesso sito, siamo in più soggetti e facciamo più cose. Per esempio, quando dicevo che uno può andare a cercare, l'altro può chiamare, cerchiamo e chiamiamo in parallelo. Chiaro che magari il segnale che trasmettiamo è uno solo alla volta, perché quando il radioamatore 1 che sta chiamando sta rispondendo, non sta usando la potenza, non sta trasmettendo lui, allora il radioamatore 2 che ha cercato e ha trovato un qualcosa che gli serve, un moltiplicatore, può farlo e quindi ci si inizia ad alternare a divisione di tempo e quindi ci può essere un runner e tanti cercatori. Il runner lascia lo spazio dei cercatori e qui ci sono degli effetti anche carini che si vedono perché per esempio il runner sta rispondendo, dall'altra parte gli dicono ok, tu vuoi finalizzare il collegamento ma non hai la possibilità di farlo perché sei interlocato come si dice, cioè gli altri ti bloccano perché stanno usando loro la risorsa radio e tu devi aspettare magari 2-3 secondi perché l'altro sta finendo il collegamento e l'interlocutore dall'altra parte si chiede ma allora non mi hai sentito cos'è successo eccetera, cioè inizia una dinamica che a volte è molto complicata e anche fatemi dire bisogna essere molto affiatati perché quando si va a suddividere una risorsa con più soggetti e quando tu magari stai finalizzando un collegamento che è un punteggio che ti permette di andare avanti e non ci riesci perché qualcun altro del tuo team ti sta rubando la risorsa non te la sta rubando te la sta occupando è la prima osservazione che lo vorresti uccidere la prima cosa che vorresti fare è quella poi invece ti rendi conto ritorni in un ambito naturale normale di condivisione della risorsa e ti rendi conto che devi attendere e non ti devi innervosire e anche questo è una prova non banale di socializzazione di stare insieme con tanti altri soggetti nel momento in cui appunto diventa complicato condividere una risorsa questo era il multi operatore singolo trasmettitore il singolo trasmettitore non vuole dire che una radio sola vuole dire che posso emettere un segnale solo a revolta io posso avere 100 radio ma ne accendo una sola in trasmissione tutte le possono ricevere normalmente poi anche per rendere più eque le varie gare non è vero in tutti i contest ma quasi in tutti si definisce un perimetro entro il quale deve stare le antenne e le radio che è circa di 500 metri cioè tutto deve stare lì dentro uno dice ma perché farlo più grande ti costa di più e più complesso sì però ti allontana dall'interferenza di te stesso perché evidentemente quando qualcuno trasmette sta assordando sulla stessa frequenza tutti gli altri più sono lontani e meglio è quindi ci hanno dato delle regole perché se no i più ricchi potrebbero usare 100 chilometri i meno ricchi 10 metri quindi per cercare di anche rendere più fair l'operazione per quello che è possibile ci hanno dato delle regole normalmente 500 metri è il perimetro dove deve stare tutto ma poi si può fare il multi operatore con due trasmettitori invece di averne uno ne abbiamo due e allora ci sono due che possono rannare in continuazione ci possono essere altri due che fanno le ricerche piuttosto che altri due altri due e in questo caso non ci si arrabbia più fra i due che rannano ci si arrabbia con quello che cerca fino ad arrivare al multi operatore multitrasmettitore che è l'operazione più ampia che possiamo avere in generale ecco questo multitrasmettitore multi operatore ci sono tanti operatori normalmente uno per banda anche qui dipende dai regolamenti che vanno a trasmettere io vi condivido un attimo lo schermo per farvi vedere ci provo vediamo un po' ecco qua vi condivido lo schermo che dovrebbe essere condiviso in questo momento e vi faccio vedere per esempio il CQ Worldwide CQ Worldwide è il contest più famoso più importante del mondo CQ è una rivista americana CQ Magazine questa rivista genera appunto diversi contest è interessante se andiamo a vedere per esempio sui risultati le statistiche se andiamo a vedere le statistiche qui vedete dal 1948 al 2019 cosa è successo al CQ Worldwide come in SSB sopra e in CW sotto come numero di log quindi come numero di registri del contest che vengono sottomessi e vedete gli andamenti qui vedete l'ultimo anno 7.741 8.500 insomma sono numeri che vanno dagli 8.000 e 9.000 e è interessante per chi mai avesse dubbi con qual è il trend sull'SSB del CQ un multi-uno quindi multi-operatore ma singola radio per esempio e notate una certa differenza fra queste diverse situazioni se prendiamo degli italiani famosi IR4M IR4X per esempio qui vedete IR4M con alcuni risultati che hanno fatto nel corso degli anni piuttosto che IR4X giusto per per citarne alcuni poi se ne possono vedere tanti questo per farvi vedere qui siamo ai top mondiali queste sono situazioni ai top mondiali e qui sopra vedete vari tipi di gare per esempio quello che citavo prima il WPX quello che riguarda soltanto i prefissi anche qua vediamo che è un contest abbastanza partecipato perché vedete che siamo sull'intorno dei 5-6.000 log che arrivano quindi direi molto ben partecipato se andiamo a vedere i risultati e per esempio non so prendiamo il 2019 in SSB e andiamo a vedere chi ha fatto i più punti qui abbiamo quasi 8.000 QSO e insomma vedete che siamo davanti a situazioni molto 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 ampia ecco questo è un po' per introdurvi a che cosa sono i contest perché se no era difficile andare a parlare di quest'altra di quest'altra situazione il World Radio Sport Team Championship che sono le Olimpiade della radio come ogni Olimpiade si tengono ogni 4 anni o almeno questo è il meccanismo su cui si sta andando qui ci sono un po' i risultati storici 1990 Seattle vediamo due americani 1996 notate che non è proprio ogni 4 anni San Francisco con due americani 2000 in Slovenia con due americani insomma qui vedete un pochino qual è il il trend gli americani l'hanno fatta per molto tempo abbastanza diciamo da padroni fino ad arrivare nel 2018 dove non hanno vinto degli americani come vedete un'altra tipologia di vincitori come anche in Russia hanno vinto i russi nel 2022 finalmente siamo in Italia e siamo in Italia per fare in modo di fare queste Olimpiadi in Italia ci siamo messi insieme in un po' di amici e abbiamo cercato di candidare l'Italia come sede per fare queste Olimpiadi quello che ci interessa evidentemente non è chi vincerà le Olimpiadi quello che ci interessa almeno lo dico da organizzatore quello che ci interessa è organizzare e capire bene come poter fare una ottima organizzazione di un evento di questo tipo credo che questo sia veramente l'evento interessante e la prima cosa che su cui abbiamo guardate litigato discusso per circa un anno e mezzo sono i criteri di qualificazione criteri di qualificazione come le Olimpiadi bisogna avere un gruppo di persone che viene che non è infinito allora le Olimpiadi della radio funzionano come un multi operatore con due radio è un multi due quindi ci sono due operatori due questi due operatori stanno in una tenda questa tenda è collocata in un territorio con la sua antenna gli altri soggetti sono a una certa distanza 3-4 chilometri si cerca di costruire delle condizioni propagative uguali per tutti e qui abbiamo scelto la pianura padana quindi non è che ne mettiamo una in Sicilia e una in Emilia Romagna se no le condizioni propagative sarebbero diverse una condizione propagativa assolutamente analoga per tutti in questa condizione propagativa andiamo a costruire delle condizioni operative uguali per tutti quindi dobbiamo mettere delle antenne uguali per tutti posizionati in zone dove il rumore sia più o meno uguale per tutti il rumore legato per esempio alla presenza di una città alla presenza di elettrodotti a qualunque forma di rumore che ci può essere quindi dobbiamo andare a trovare delle condizioni per cui questo sia effettivamente vero in questa gara dura 24 ore quindi bisogna mantenere tutto attivo 24 ore e stiamo parlando di una gara dove ci sono i più grandi del mondo quindi dove il numero di collegamenti è del loro dei 5.000 stiamo parlando di situazioni di questo tipo molto molto veloce è una gara che si tiene a luglio e allora quello che abbiamo cercato di fare è capire quali criteri di qualificazione mettere soprattutto non solo quali gare nel mondo andare a prendere qui c'è la lista come vedete delle gare del mondo che andiamo a prendere nel 2019 nel 2020 ci siamo limitati al 2019 2020 perché i risultati del 2020 arrivano nel 2021 la gara nel 2022 vorremmo dire qualche mese prima le persone come si sono qualificate perché possono effettivamente venire a partecipare alla gara e quindi ci è sembrato naturale prendere necessario per il 2019 2020 poi abbiamo dato una valorizzazione ai diversi contest cioè abbiamo detto il CQ Worldwide vale mille perché un contest più difficile più importante rispetto a un RRL international che vale 800 perché è sicuramente un contest minore rispetto al Worldwide poi un contest importantissimo anche quello se no non l'avremmo messo qui piuttosto che l'Olasian quindi abbiamo fatto una specie di scoring di rating dei contest per metterne alcuni più importanti e alcuni meno ma soprattutto siamo andati a classificare le zone del mondo e abbiamo cercato di trovare un meccanismo per cui fosse molto fair la partecipazione vi spiego se noi abbiamo che tutti i radiomotori più bravi sono in una zona del mondo non è che possiamo prendere tutti i radiomotori solo da quella zona e far competere quelli da soli escludendo tutte le altre zone l'idea è stata quella di trovare un meccanismo di aggregazione per cui sia possibile per ogni continente o comunque per ogni area esprimere i migliori due di quell'area perché quell'area può avere caratteristiche anche proprio se uno fa i conti in quel caso vali tre punti quando ti collegano dall'Europa se tu sei a Bologna e Ferrari vali un punto già c'è una differenza di tre è evidente che uno che sta a Madeira ha un vantaggio che ne so rispetto a uno che sta a Ferrara o a Cento ecco quindi abbiamo cercato il più possibile quindi di far competere i soggetti nella propria area geografica e ristringere il più possibile il numero di candidati nelle aree geografiche in modo da dare a tutti una migliore possibilità o da far emergere qualcuno che magari è tecnicamente è molto bravo ma che proprio perché magari ha più difficoltà a muoversi e non va nei luoghi diciamo più propensi a ottenere ponteggi alti ma ugualmente è tecnicamente bravo e lo vogliamo vedere all'opera poi abbiamo dato dei pesi e dei pesi per esempio sono qua in funzione dell'operatività se tu sei un singolo operatore high power vale uno se tu sei un singolo operatore assistito assistito vuole dire che non operi da solo operi da solo in termini fisici ma hai l'assistenza di un cluster cioè di un sistema distribuito in cui tutti i radioavatori possono dire chi hanno collegato ora se io devo andare a cercare un moltiplicatore sono in cuffia agisco su il VFO cioè su quell'oggetto che mi permette di cambiare la frequenza e devo cercare qualcuno che non ho fatto prima e questo è il modo per cercare un moltiplicatore se tutti quelli che stanno facendo la mia stessa azione pubblicano tale azione in una rete mondiale a cui io faccio parte e mi viene fuori quello che si chiama uno spot cioè un'allerta dicendo guarda che la stazione V63DX che non hai ancora fatto è in contest e per te ho moltiplicatore io non faccio altro che cliccare su quella frequenza andarci sento che lo ascolto effettivamente faccio il collegamento ma non lo devo andare a cercare quindi sono assistito non da qualcuno che sta qui da me ma sono assistito dagli altri radioamatori nel mondo che tutti insieme mi aiutano e io aiuto loro in questa in questa funzione ma evidentemente valgo un po' meno quel collegamento e quindi abbiamo messo una penalizzazione piuttosto che se fino a quella più estrema se faccio un multioperatore multitrasmettitore evidentemente partecipo a una categoria dove ci sono un minor numero di soggetti e ancora una volta può essere più facile fare determinati punteggi piuttosto che altri quindi abbiamo fatto una certa analisi dei punteggi qui ci sono diciamo tutte le caratteristiche che vi dicevo adesso non vi annoio ulteriormente sul sito wrtc2022.it ci sono queste caratteristiche che ci permettono proprio di andare a definire la qualificazione ma adesso interrompo la condivisione dello schermo e ritorno deviso per raccontarvi gli altri pezzi ma a questo punto una volta che abbiamo qualificato noi dobbiamo andare a costruire i siti costruire i siti vuole dire che abbiamo bisogno e questo come sempre è anche una specie di annuncio che abbiamo bisogno di tutti i volontari possibili perché noi dobbiamo andare nei territori a trovare i luoghi misurare se i luoghi sono corretti se funzionano bene poi dobbiamo avere delle antenne dei tralici che andiamo a montare e li andremo a montare uno o due giorni prima della manifestazione non certo un anno prima li dovremo montare dovremo verificare che tutto sia a posto dobbiamo presidiarli perché non è che montiamo delle attrezzature e le abbandoniamo lì ovviamente dovremmo stare in loco dobbiamo accompagnare il team dei due radiomatori ma anche dell'arbitro perché non è che i due radiomatori sono da soli i due radiomatori hanno almeno un arbitro che sta lì e che verifica puntualmente quello che i due radiomatori stanno facendo durante la gara una cosa che non possono fare è essere assistiti una cosa che non possono fare è telefonare a qualcuno e farsi spottare una cosa che non possono fare è farsi riconoscere cioè non possono dire io in questo momento ho il nominativo che ne so India 40 Alfa e non so che nominativi avremo insomma ho questo nominativo ma in realtà sono i K4 e le ZH vi prego sono italiano sto partecipando fate in modo che tutti mi collegano no questo è assolutamente vietato tutti hanno un nominativo che sarà dato dall'organizzazione e non devono essere riconoscibili il giudice sta lì e sta a verificare queste cose sta a verificare che non non dicano cose per essere riconosciuti o che visto che è sia in fonia che in telegrafia non battano sul tasto elementi o in qualche modo cadenze che possano in qualche modo farle riconoscere ammesso che usino in un tasto piuttosto che un sistema digitale e questo useranno poi quello che ritengono quindi c'è da un lato è tutta una preparazione enorme nella costruzione e poi c'è la gara vera e propria bisogna portare lì le persone bisogna che chiamiamo per un attimo atleti perché sono effettivamente gli atleti di questo sport questo è uno sport uno sport degli atleti bisogna portarli nel campo di gioco bisogna prima fargli vedere il campo di gioco poi fare in modo che loro faccia in loro setup perché le radio sono degli atleti stessi noi diamo le antenne diamo il sito ma uno si porta la propria racchetta da tennis se la porta lui non è che gliela stiamo dando noi è l'equivalente se l'è configurata come vuole è capace di usarla si è allenato su quella radio sa esattamente come fare deve aver messo insieme tutta una serie di automatismi per essere veloce per essere molto funzionale e quindi noi lo dobbiamo portare lui deve fare il suo setup e poi lo dobbiamo assistere dobbiamo assistere perché durante la manifestazione può succedere qualunque cosa ci può essere l'energia elettrica che non funziona ci può essere un'antenna che per qualche motivo ha un problema ci può essere un rotore che ha un problema il setup tipicamente avrà un'antenna direttiva per i 10-15 ai 20 metri e delle antenne filari per i 40-80 metri è un contest che avviene su 5 bande e di conseguenza lui deve essere attivo su queste 5 bande e non avere problemi su quelle 5 bande i problemi non sono di interferenza con gli altri i problemi sono non so se ha un rapporto di onde stazionare troppo alto se ha un rotore che non funziona se ha azioni che non sono previste e lui deve avere le stesse caratteristiche di tutti i concorrenti che stanno insieme a lui facendo questa gara realtime noi raccogliamo tutti i punteggi e pubblicheremo per il mondo radiantistico tutti questi punteggi ma i singoli attori non li avranno noti e quindi daremo questa informazione a tutti gli altri ma non a loro poi dovremo costruire risultati veri e propri normalmente per verificare una gara ci vuole un tempo lungo normalmente ci si mette 3-4 mesi qui invece dobbiamo farle in 24 ore e quindi chiederemo a tutti i radiamatori del mondo di mandarci i log di quella manifestazione per riuscire a verificare e incrociare entro 24 ore in un tempo che normalmente non permette di farlo la correttezza di tutto quello che è avvenuto la correttezza del tipo se hanno ricevuto il nominativo giusto se hanno mandato il nominativo giusto insomma tutti i parametri che devono essere fatti fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore ma soprattutto fino ad arrivare ad altre due cose che noi dopo dobbiamo rismontare perché la gara è finita ma il campo da gioco è ancora attivo quindi noi dovremmo andare a rismontare tutto dovremmo rimettere a posto tutto e poi come succede in tutte le manifestazioni dovremmo fare in modo che ci siano le cartoline di conferma le cosiddette QSL di tutto quello che è stato questo evento quindi c'è un bel po' da lavorare prima un bel po' da lavorare durante e un bel po' da lavorare dopo questo è la summa in questo momento stiamo allargando il team delle persone che si devono occupare si potranno occupare delle varie fasi che vi ho raccontato e che sono fasi estremamente in itinere ma anche di grande discussione della quale ci piacerebbe mettere una forte italianità cioè ci piacerebbe dire che il WRTC 2022 che avviene fra Bologna Ferrara Ravenna ma che viene in pianura padane fondamentalmente a Ferrara è un WRTC che deve essere ricordato per alcuni elementi sicuramente per le regole e per le diverse regole di qualificazione che abbiamo costruito e su questo ci abbiamo già lavorato ma adesso per il setup per i risultati per tutto quello che potrà essere e che sarà e quindi è fondamentale l'aiuto di tutti radiamatori e non fatemi dire sicuramente i radiamatori conoscono meglio l'ambiente conoscono meglio tutto quello che stiamo facendo perché è un po' nel loro DNA magari hanno visto Contest e quant'altro però fatemi dire anche coloro che non sono radiamatori assolutamente sono benvenuti in questa organizzazione perché è un'organizzazione importante dove vogliamo tenere alto insisto alto il nome dell'Italia e vorremmo fare un qualcosa di veramente interessante con un problema che si chiama coronavirus per cui in questo momento abbiamo tutto fermo e abbiamo fermo nel momento in cui da un lato ci sono le qualificazioni del 2020 e questo è un male perché molti team non riescono a fare le qualificazioni che dovrebbero fare come team come multiple operatori perché in molte nazioni non sono nell'Italia ci sono dei divieti o degli orientamenti di non andare a stare tutti insieme e questo è sicuramente un problema da un lato dall'altro lato è perché le manifestazioni internazionali nelle quali noi andiamo a raccontare a raccogliere fondi a fare le varie operazioni in questo momento molto più rare e non così definite o non così attive come devono essere precedentemente bene io spero di aver in qualche modo interessato sono stato circa in tre quarti d'ora con il mio ritorno grazie a tutti